Non ci credo Scappa scappa Benvenuti sul canale di Vitale Oggi finalmente un nuovo episodio di Scary Teacher Nuovi scherzi Sì ed infatti come vi avevo promesso l'altra volta Lo scorso video ha raggiunto i 5.000 mi piace Grazie E quindi nuovo video Scherzi a Scary Teacher Quindi se questo video raggiunge almeno i 7.000 mi piace Un nuovo video qui sul canale di Vitale Siete pronti? Iniziamo subito adesso Allora nel nuovo aggiornamento Come sono i nuovi scherzi? Allora vedo Scary Teacher che sta prendendo il sole con il costume Infatti abbiamo la versione estiva Dei nuovi episodi Dei nuovi scherzi a Scary Teacher E ne abbiamo due Quindi cioè Qui lei che sta facendo pugilato Quindi cominciamo subito da questo So già che andrà a finire male Che cosa c'è scritto? Misty vuole mostrare quanto è brava pugilato Quindi facciamogli vedere che cosa significa Qualcosa mi dice che Scary Teacher finirà male in questo scherzo Poi alla fine del video scriveteci qual è stato il vostro scherzo preferito Sì Anche noi vi diremo il nostro preferito Vediamo Vediamo Wow è cattivissima Il ring Quero i pantaloni Povero Francis Nooo Now you can try now Francis ha detto Fammi mangiare qualcosa Mi ricorda qualcuno questo qui Povero Francis Ma poi avete visto che c'erano anche Scary Robber Ah sì non l'ho fatto Sono gli amici di Scary Teacher C'erano entrambi Entriamo C'è scritto cerca qualcosa per rovinare il cibo di Francis Ecco perché ha detto fammi mangiare qualcosa Forse perché magari vuole prendere un po' di energia Mangiando qualcosa Si sta truccando guardate Mi dispiace Scary Teacher ma anche il trucco non ti aiuterà a essere più bella Ok allora io intanto vado un po' in giro e vedo se trovo qualcosa Ma perché dobbiamo rovinare il cibo di Francis Poverino Non lo vedo pure io Dopo che ha preso i pugni da Scary Teacher Non sarebbe meglio mangiarlo il cibo invece di rovinarlo Che c'è qui? Aspetta trova qualcosa per aprire Trova qualcosa per aprire la scatola di dinamite La scatola di dinamite? Per saltare in aria Scary Teacher Ok vediamo Oh no Ops Siamo scivolati Abbiamo fallito lo scherzo Di già Ops sono scivolato Come abbiamo cominciato male vediamo che cosa c'è dentro casa Forse in cucina troviamo qualcosa per rovinare il cibo Ottima idea Mi piace l'idea della cucina Come sta? Oh guarda Aspetta forse questo ci serve Per pulire a terra Sì Cosa c'è entra? L'acqua giù in cantina Ah dove siamo scivolati Esatto Sta salendo Sta salendo Sto salendo Sto arrivato No Non l'avevo vista Ok adesso noi possiamo uscire E andiamo nella cantina Ma si può passare anche da dentro casa nella cantina? È vero Hai ragione Facciamo pure prima No no È lei nella camera da lei Brava Anita Buon consiglio quello di scendere direttamente da qui Eccoci qua Ecco Allora Vediamo Vai Oh ha funzionato Non è contro frances magari poi si rivelerà che sarà contro Un panino si sul tavolo visto un paio ritare nota subito il cibo e non l'ho visto andando sopra Guarda Dice di scappare Fantastico via 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 Povero pre Spero che la manci scheritiger non prezzi vediamo che cosa succede adesso lei si è bloccata nel bagno E mi sa che c'è qualcosa che non fa scheritiger non si muove più Prendiamo la latina nel frattempo ma mi sa che si L'ho bloccata lì dobbiamo per forza entrare dentro casa e spostarci un po per farla sbloccare si è bloccata lì Vediamo se ci avviciniamo forse si sblocca E qua e qua AAAAAH Si è staccata Sono caduto sono caduto giù nella cucina aspetta aspetta Dove è andata Capà Non vedo Apri la porta Eccola Vediamo Ce l'abbiamo fatta però se non l'abbiamo sbloccata va subito da rincorso Ok ok sta arrivando fuori Ora dovrebbe andare Vediamo A mangiare la dinamite O lei o Francis Vediamo Scappiamo scappiamo Misty contro Francis Che amore poi qui Ok lui ha fagiato il panino con la dinamite Oh no 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 Ops Ha fatto un rutto di fuoco Ha sbrucciacchiato il scheritice e ha rivestito la polverina Bello scherzo Prossimo scherzo Ma vi sembra che ci sia scritti In un quadro Miss T pensa di prendere in giro tutti quanti Alla gara d'arte L'unica che verrà presa in giro però è lei Che bello Vediamo di che cosa si tratta Pure pittrice Fa proprio tutto Ma il cappello La mia opera d'arte ha detto Penso sempre di essere la più brava E poi dice sicuramente vincerò Chissà che cosa sarebbe successo Se non l'avessi dipinto Quindi è come se lei sta varando Già in anticipo sull'opera d'arte Perché poi dice Non lo devono scoprire Che cosa non devono scoprire Lei pensa già di aver vinto la gara La gara esatto Vediamo cosa ha dipinto Sono proprio curiosa Andiamo in giardino a vedere Infatti dice Trova il modo di rovinare il quadro di Miss T Ok non c'è problema Allora Andiamo a vedere subito in garage Che cosa abbiamo Una spillatrice Sì una spillatrice sparachiodi Prendiamo anche le forbici Che magari ci possono tornare utili Per tagliare il quadro Lei ha una faccia arrabbiatissima Come sempre Sembra che abbia già capito Cosa stiamo andando a fare Andiamo 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 Che cosa c'è altro qui Uh la colla Facciamo lo slime Ho incollata la mano Noooo Era una trappola di scary teacher Ho fatto in modo che noi mettessimo la mano nella colla E poi rimanessimo incollati per prendersi Io volevo fare solo lo slime Dobbiamo rifare tutto da capo Ricominciamo Ok allora Cerchiamo di non cadere nelle trappole di scary teacher Vero Secondo voi che cosa ha dipinto Secondo me ha dipinto Francis Nooo Oppure lei ha dipinto se stessa ancora più bella Secondo me invece è proprio questo Perché lei è super vanitosa Riprendiamo le forbici e la spillatrice E andiamo in giardino a vedere il quadro Magari lo possiamo tagliare con le forbici Che cassino Magari gli posso mettere delle foglie Raccogliamo delle foglie E gliele ciappiamo con la ciappatrice Ciappiamo Ciappatrice Pinzatrice Gliele pinziamo con la pinzatrice Vediamo vediamo il quadro Hai che boccone in her Ha ci pinza se stessa in forza Non possiamo fare niente con le forbici Vediamo con la spillatrice Neanche No Che cosa dobbiamo fare allora Dobbiamo trovare un altro modo Allora lei è qui Che facciamo Allora sta salendo su Frigati Magari possiamo trovare qualcos'altro dentro casa Andiamo a vedere Sarebbe bello modificare il dipinto E fare scrittiche Ma brutta Vabbè è già brutta Cioè farla ancora più brutta Ancora più brutta Ottima idea La colla di prima Questa qui non la dobbiamo toccare Non la dobbiamo toccare Guarda c'è un'altra colla qui Che furba Aveva messo una colla lì come trappola E una normale Noi dovevamo prendere quella normale Frigorifero Abbiamo una torre Che cosa è questa cosa Che cos'è Un petto di pollo Non lo so Che strano Dovremo attaccarlo Sì finito Oddio Ottima idea Andiamo Oh no qua è chiuso Aspetta Lei è sul divano Si sta avvicinando Attenzione È lì Allora noi usciamo dalla finestra Guarda Dice Metti la colla Sul quadro Non me ne ero accorto Ok Mettiamo la colla Trova qualcosa da appiccicare al quadro Ah ok Forse è questa cosa che hai già preso Vediamo No No non me le fa mettere Questa dobbiamo appiccicare Degli occhi magari Dobbiamo trovare il modo di mettergli magari degli occhi Lei continua a ballare E vai Non sta sospettando niente Ha messo un sacco di lucchietti scheritiger adesso È diventata più furba Dopo tutti gli scherzi che le abbiamo fatto È la sua Attento E ora dove No stiamo finendo anche l'energia Oh guarda Ah magari possiamo prendere È un orsacchiotto E Gli prendiamo gli occhietti No Sarà troppo divertente Non vedo l'ora Abbiamo bisogno di un po' di energia però Stiamo per finirla Eccola Lei sta facendo ginnattica fuori in giardino Non sa che sta controllando il quadro No Eh sì Dobbiamo stare attenti Dobbiamo sbrigarci subito Via 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 Non ci credo ce l'abbiamo fatta Sì Meno male si sta addormentando Ci stiamo quasi Quindi metteremo gli occhi Dello orsacchiotto E poi quell'altra cosa Che cosa dobbiamo fare Dice di mettere gli occhi sul quadro Vediamo E noi adesso mettiamo subito gli occhi Eccoli qua E' una lingua di bue questa E poi dobbiamo appiccicarla Con la sparaggione Non si credo Guardate cosa Fai in modo che Misty non se ne accorga Perfetto Ok abbiamo coperto Non me lo guarda che c'è da Devo scappare Scappiamo La competizione Vediamo che sto quadro Come reagirà a lei Sarà troppo divertente Questo scherzo è bellissimo Me lo sento Eccolo Fatevi gli occhi sulla mia opera d'arte Questa è la bellissima Troppo bello Divertentissima Ce l'abbiamo fatta Si Qual è lo scherzo che ti è piaciuto di poco A me questo Era super divertente Secondo me qual è stato il più divertente Fatecelo sapere giù nei commenti Adesso vi lasciamo qui Quattro caselline su cui cliccare Cliccate su quella che preferite Al prossimo video Ciao